Parte Destinazione Fantasia con Adventure Time tra poco su Cartoon Network E adesso i nuovi episodi di Takeshi Scasso su Cartoon Network Le nuove avventure di Scooby-Doo tra poco su Cartoon Network Ritornano i Jedi, il lato oscuro colpisce ancora Addio Star Wars The Clone Wars, terza stagione In prima visione dall'8 aprile alle 20 e 20 Nel Big Bang di Cartoon Network Metà uomo Metà drago 100% eroe Fire Prepper, il nuovo film di Cartoon Network Anteprima il 1 aprile alle 20 e 20 nel Big Bang di Cartoon Network